Buongiorno a tutti, il mio nome è Marco Toia e sono il CEO di Seagabox. Seagabox è una startup che ha come obiettivo quello di permettere finalmente un monitoraggio in tempo reale delle merci durante il loro processo di vita. Siamo sicuri oggi che il cibo che arriva sul nostro tavolo è passato attraverso un rigidissimo controllo della catena del freddo. Possiamo essere sicuri che il nostro quadro è stato trasportato dalla mostra e riportato indietro nelle migliori condizioni possibili. Bene, questo la tecnologia oggi ce lo permette. Ce lo permette Seagabox e ce lo permette in tempo reale con la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per poter migliorare le condizioni che ci permetteranno di avere la sicurezza assoluta. che il trasporto o lo stoccaggio del nostro prodotto siano avvenuti in maniera ottimale. Qual è la grossa differenza? È che in passato ci siamo sempre concentrati sulla macchina, sul camion, sull'aereo. Ma che cosa è che veramente ci interessa oggi? Ci interessa il contenuto di questi prodotti. La cosa complessa è che un prodotto o un'analisi in un tale contenuto deve basarsi sul principio di totale semplicità. Perché per le aziende la cosa più importante oggi non sono più sofisticate tecnologie, ma la semplicità di uso. Ecco perché Seagabox fa della semplicità il proprio mestiere. Non oggi come oggi ci indirizziamo alle aziende, quindi facciamo business to business, diamo un prodotto totalmente chiave in mano, schiacci un bottone e tutto funziona. Abbiamo creato un sistema di sicurezza di grado quasi militare, un livello bancario elevato, perché comunque quando trasportiamo o monitoriamo un Raffaello o un Michelangelo o comunque anche un prodotto di tipo alimentare importante, dobbiamo essere sicuri che questa informazione non possa essere presa, estrapolata e condivisa dal momento. intero, quindi altissimi livelli di sicurezza, criptografazione, ridottanza di informazione e soprattutto, la cosa più importante, un sistema che si adatta a tutti i prodotti. Che sia il latte, che sia un vaso, o che sia un'opera, o che sia un vaccino per l'industria farmaceutica. Tutti questi prodotti hanno le loro caratteristiche del nostro sistema, grazie a più di 60 parametri, in grado di adattarsi letteralmente a ogni prodotto. Facciamo offrire un servizio chiave in mano ai nostri piedi. Questo servizio si basa su una struttura integrata di raccolta da dove noi formiamo l'apparecchiatura elettronica necessaria, il collegamento in tutto il mondo, copertura globale, e, naturalmente, la cosa più importante, una piattaforma informatica basata su un sofisticato principio di intelligenza artificiale che è in grado, con la raccolta dati, di migliorare sempre di più la nostra capacità predittiva di quello che potrà succedere agli oggetti che stiamo monitorando, permettendo all'azienda di intervenire in anticipo, perfino, rispetto ai problemi che si potrebbero verificare. Questo vuol dire che anche in un trasporto intermodale, in cui l'apparecchio va da un camion a un aereo, e poi magari su una nave, il nostro sistema, con la sua intelligenza artificiale sempre attiva, è in grado di capire la posizione del nostro oggetto, la sua situazione, e automaticamente offrire il migliore servizio. Dopo la raccolta di dati così perfettamente contestualizzati, e quindi preselezionati, l'analisi degli stessi dati diventa molto più semplice. Ecco SioBox. SioBox è l'applicazione dell'IoT alla raccolta selezionata e contestualizzata di dati riguardanti le merci. Il tutto offerto come un servizio a disposizione di qualsiasi azienda B2B che sia interessata a dare ai propri consumatori una visione precisa di cosa succede alle proprie merci. SioBox ha iniziato a operare nel 2015 con il nostro sistema, e da allora abbiamo raccontato più di 500 milioni di dati contestualizzati. Abbiamo analizzato 60 parametri, che sia la temperatura, che sia lo scontro, che sia l'umidità, l'urto, il capovolgimento, il passaggio per aree geografiche precise, Australia, città, casa, strada, siamo in grado di monitorare con un dettaglio incredibile tutti gli movimenti dell'oggetto. Addirittura fornendo alle aziende interessate un pacchetto di API in grado di permettere l'integrazione facile all'interno dei loro sistemi informatici. SioBox oggi si trova davanti a un'opportunità commerciale senza precedenti. Il mondo assicurativo è sempre più coinvolto nella ricerca di un sistema di White Box, un sistema che permetta la prevenzione e il supporto consulenziale dei problemi. SioBox è in grado di offrirlo, è in grado di offrirlo in maniera trasparente e sicura. Su questi principi abbiamo iniziato delle partnership importanti in livello mondiale e ci troviamo oggi ad essere certificati da alcune delle più grosse situazioni del mondo. Grazie. 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 Grazie.